Ciao aperitivers! Finalmente è venerdì, state iniziando a pensare ai vostri aperitivi? Allora vi faccio vedere, io sono qui pronto, vi faccio vedere per darvi qualche idea la nostra nuova e bellissima collezione di patatine fritte di cui sono super super fiero mi faceva piacere inaugurare questa serie di video che abbiamo un po' pensato intorno agli aperitivi con sua maestà la patatina, ho raccolto la più bella e ampia collezione di patatine che sono riuscito a trovare e altre ne verranno, non sono le uniche, artigianali, spettacolari abbiamo gutti au, abbiamo patatine di mais, abbiamo patatine classiche ora piano piano farò lo sforzo di degustare tutto per voi ovviamente voi lo troverete nel nostro nuovissimo negozio di Viale Guidoni 18C a Firenze se volete venire a degustare con noi io cercherò di fare dei video e farvi sentire tutta questa bontà anche solo raccontandola quindi ci vediamo presto con una serie di video dedicata a tutti quelli che pensano che l'aperitivo non sia importante ma che sia l'unica cosa che conta